Buonasera, benvenuti a Fatti e Commenti, puntata di martedì 20 febbraio. Di solito vi facciamo un po' riepilogo di quello che è successo nella mattinata durante la seduta dell'Assemblea Legislativa delle Marche e in questo caso lo facciamo proprio in diretta con una delle protagoniste della politica regionale delle Marche, l'assessore alla cultura, allo sport, politiche giovanili, pari opportunità e tanto altro ancora a diverse deleghe, assessore Chiara Biondi, grazie per essere intervenuta nei nostri studi. Grazie a voi, buonasera a tutti. Allora oggi diciamo si è discusso di poche cose, diverse interrogazioni, sanità in particolar modo, sostegno agli agricoltori marchigiani che anche loro stanno protestando per quello che sta succedendo con il Green Deal, anche se da parte dell'Europa c'è stato notevole passo indietro, ma lei detiene due cariche fondamentali, cultura, le Marche è una regione che davvero dà moltissimo a livello culturale, e sport. Iniziamo con la cultura, tanti bandi a sostegno di un associazionismo che è davvero molto presente nel nostro territorio, ci sono tante piccole realtà che attraverso anche i bandi che vengono emanati dalla sua funzione, possono andare avanti, possono garantire un sostegno sociale a un territorio che è stato colpito dal Covid e poi la crisi economica. Beh sì, sicuramente la cultura è una delega molto importante nell'ambito della nostra regione, proprio ieri è passato in commissione, in commissione cultura, il nostro piano annuale della cultura con il quale noi mettiamo a terra le risorse che ci vengono assegnate dal bilancio regionale. Quest'anno abbiamo un primo stralcio di questo piano della cultura con oltre 2 milioni di euro che ci consentiranno anche quest'anno appunto di partire con il bando unico della cultura. L'anno scorso abbiamo sperimentato questa nuova forma di finanziamento dove in un unico momento partono tutti quelli che sono i bandi della cultura. Abbiamo visto che c'è stata una risposta molto positiva da parte non solo delle associazioni ma comunque anche dei comuni, di tutti quelli che sono i destinatari del nostro bando e quindi attesa questo riscontro molto positivo vogliamo continuare verso questa direzione. E quindi anche quest'anno, ormai nel mese di marzo, partirà il bando unico della cultura con le misure principali che abbiamo sempre messo in atto, quindi premi rassegne festival, eventi espositivi di rilievo regionale. Tutto questo perché il nostro tessuto, il tessuto culturale della regione Marche è un tessuto particolarmente attivo e ricettivo sotto questo punto di vista. E quest'anno appunto addirittura faremo poi degli incontri sui territori perché vogliamo comunque andare ad incontrare le associazioni e il mondo culturale più in generale e spiegare loro e capire magari anche quelle che sono le richieste, le istanze che ci arrivano dal mondo culturale per anche migliorare, perché no, le nostre misure. Ecco, avete deciso con l'amministrazione Acquaroli, da quello che ho capito, non sostenere i grandi festival, i grandi carrozzoni, ma puntare sulle realtà del territorio, diciamo su anche quei piccoli festival e orassegne che mantengono viva la cultura nei vari comuni. Le Marche sono costituite da piccoli comuni e più grandi ancora che non raggiunge nemmeno i 100 mila abitanti. Quindi questa è stata la scelta a livello culturale che avete intrapreso appena vi siete insediati. Beh sì, sicuramente la scelta è stata quella della qualità, perché sicuramente se vogliamo che la cultura rappresenti anche un volano, un elemento di traino economico, dobbiamo sicuramente puntare sulla qualità. Poi un altro elemento che ci contraddistingue è quello delle reti, perché noi abbiamo creato attraverso appunto un bando delle reti, che sono appunto delle aggregazioni culturali, quindi hanno partecipato tra l'altro sette reti nella nostra regione dove sono stati messi insieme tutti quelli che sono i luoghi e gli istituti della cultura, quindi musei, archivi, biblioteche, teatri e sono stati poi diretti da questa nuova figura che è appunto il direttore di rete. Anche questa è stata una scommessa vincente perché siamo stati gli unici in Italia ad aver fino adesso messo in campo questa misura e abbiamo visto che sta dando degli ottimi risultati. La stiamo tra l'altro facendo controllare, se vogliamo, dal nostro osservatorio regionale della cultura e i risultati che ci arrivano, i feedback che ci arrivano sono assolutamente positivi. Quindi è una misura che vorremmo continuare a far lavorare. E tra l'altro, ecco come giustamente prima lei ricordava, cerchiamo di dare attenzione ai comuni, il festival che contraddistingue la regione Marche sin dall'inizio dell'insediamento del presidente Francesco Acquaroli è stato il festival Marche Storie, che quest'anno giunge alla sua quarta edizione e che quest'anno abbiamo deciso di dare l'attenzione alla poesia, perché sappiamo perfettamente che la nostra terra, le Marche, è una terra che è stata sicuramente... Noi trasmettiamo da Recanati dove c'è Giacomo Leopardi, quindi la poesia qui è di casa. Appunto, infatti, e quindi sappiamo che le Marche in generale, questi paesaggi sono stati di ispirazione per tanti poeti, in primis appunto per Giacomo Leopardi e quindi il focus sarà quello appunto della poesia. Quindi raccontare i borghi, perché comunque è un festival ovviamente dei borghi, ponendo l'attenzione sulla poesia e quest'anno cercherò di far dialogare le deleghe, quindi la cultura insieme alle politiche giovanili, perché un focus, una parte proprio di questo festival sarà proprio dedicato ai giovani. Quindi sperimento per la prima volta la possibilità di far sì che anche i giovani siano protagonisti all'interno di questo festival. Lei è un po' fortunata come assessore perché può contare anche su dei bracci operativi, uno su tutti è l'amat, diciamo che questo è il periodo del teatro per eccellenza, no? L'autunno e inverno è il periodo in cui si sfruttano le serate per andare a teatro, le Marche ha tantissimi teatri, la regione con il maggior numero di teatri rispetto alla popolazione, lei viene da un territorio dove c'è il Gentile da Fabriano che è persino una residenza ufficiale per tanti eventi e tanti spettacoli. Anche lì più fondazione Marche Cultura, possiamo dire che è bene strutturata le Marche per competere a livello culturale perché poi è una vera e propria competizione quella della cultura anche con le altre regioni perché la gente si sposta talvolta quando si propongono, vengono proposti spettacoli o rassegne di valore. Assolutamente, diciamo l'amat per noi è sicuramente importante, tra l'altro abbiamo proprio presentato un po' di tempo fa insieme a Gilberto Santini, a Pietro Celani rispettivamente direttore, presidente del consiglio di amministrazione, la stagione dell'amat dove tra l'altro i numeri sono anche qui molto importanti e molto significativi con un'importante registrazione di nuovi e tanti più abbonamenti, quindi questo sta a significare che anche in questo caso la qualità che sta portando avanti Amata è significativa e non ultimo ecco anche la Fondazione Marche Cultura e la Fil Commission che è comunque parte integrante della Fondazione Marche Cultura con il presidente Agostini e con il responsabile appunto di Fil Commission Francesco Gesualdi con i quali stiamo lavorando tantissimo perché tra l'altro sono stati anche i soggetti attuatori del bando che noi abbiamo fatto proprio sull'audiovisivo dove abbiamo avuto addirittura 107 domande quindi questo conferma anche in questo caso che è stato fatto un grande lavoro di promozione cercando di intercettare il più possibile delle istanze, delle richieste verso le Marche perché comunque è una terra che sicuramente si presta moltissimo per essere raccontata attraverso il cinema. Allora come avete avuto modo di vedere l'assessore è giovane ma è soprattutto sciolta nella dialettica perché noi vogliamo anche raccontare chi c'è dietro un ruolo politico, la persona, penso che sia anche l'occasione visto anche quest'ora per conoscere meglio chi ci amministra a livello regionale. Lei è un avvocato, viene da Sassofrano, la città e qui c'è un'altra delega che interviene, la delega dello sport, è una tappa dell'atiliano adriatico, la sesta, la penultima tappa, la Sassoferrato Caghi che attraverserà quindi un territorio colpito dall'alluvione. Grande passione quindi politica che gliel'ha trasmesso il papà, il papà Claudio, assessore, presidente, noi lo conosciamo noi sportivi, soprattutto presidente del Fabriano Basche, del Fabriano quello che se la competeva, se la batteva anche con noi ragazzi, io venivo da Osimo, mi ricordo queste grandi partite tra Osimo e Fabriano anche tra giovani, poi parliamo di livelli più alti, parliamo ovviamente della Serie A e poi è arrivata questa passione insomma per la politica, dice papà ha trasmesso qualcosa insomma. Sì, beh sicuramente da sempre, io in realtà sin da piccola seguivo mio padre quando lui è stato assessore a lavori pubblici diciamo dall'80 al 95 quindi nella giunta di Antonio Merloni, quindi io ero sempre al suo fianco e sicuramente mi ha trasmesso inevitabilmente la passione per la politica e quella politica, io dico di una volta, per cui quella politica casa a casa dove c'è sempre rapporto umano, vicino alle persone, a contatto strettissimo con le persone cercando di parlare il più possibile, quindi dalle frazioni, mi ricordo molto spesso andavo con mio padre i sabati e le domeniche, le manifestazioni, gli eventi eccetera e quindi questa passione poi ha fatto sì che nel 2020 ho scelto di candidarmi, di provare a mettere a disposizione per la collettività sicuramente questa passione ereditata da mio padre e comunque la mia attività professionale mi ha dato anche la possibilità di maturare Un avvocato devo dire, seguendo la politica da tempo, l'avvocato è avvantaggiato rispetto alle altre professioni, non me ne vogliono gli altri politici perché comunque avete a che fare con la burocrazia, quindi sapete insomma muovervi con molta più facilità rispetto ad altri, quindi anche il suo ingresso due anni dopo che è stato eletto come assessore penso che sia stato meno indolore, no? Sì sicuramente, comunque due anni come consigliere regionale per me sono stati molto importanti tra l'altro nella Commissione Cultura, Bilancio, insomma quindi è stata una bella palestra sicuramente, poi è ovvio inevitabile che chi ha una deformazione professionale per quello che riguarda l'aspetto legale e giuridico in questo mondo che è fatto ovviamente di atti scritti, di norme, di leggi, di regolamenti è importante perché comunque abbiamo... La determina che si vede, ma qui non la vedo giusta La determina, la delibera insomma, quindi sicuramente questo per me insomma mi ha aiutato tantissimo e quindi oggi ecco mi trovo a ricoprire questo incarico sicuramente grazie anche all'esperienza che ho fatto in consiglio regionale e comunque la professione d'avvocato mi aiuta, mi aiuta particolarmente E lo sport, leppure è vissuta con la pallacanestro ovviamente, ma Fabriano è una città ricchissima a livello di sport e le ginnaste, ricordiamo, ce le invidiano tutte e quindi è una città che ha dato e continua a dare molto ma anche le marche perché siamo nell'anno olimpico, siamo nell'anno in cui si andrà a Parigi e abbiamo tante carte, tanti giovani che potranno far bene anche lì un grande impegno perché lo sport non è semplice, è un ambiente sempre abbastanza particolare Assessore Sicuramente lo sport, il mondo sportivo è un mondo molto bello, molto interessante anche molto stimolante, essere a contatto con i giovani, vedere soprattutto la loro determinazione L'entusiasmo L'impegno, l'entusiasmo, la passione, la determinazione Sicuramente anche per un politico sono sicuramente da stimolo per cercare di capire come la politica può comunque sostenere ed aiutare lo sport Da marchigiana sono particolarmente orgogliosa perché i risultati raggiunti dai nostri sportivi sono dei risultati sorprendenti, eccellenti che tra l'altro ci proiettano insomma a livelli importanti come regione Tra l'altro lei appunto ricordava le ginnaste della ginnastica Fabriano ma ce ne sono tanti altri, sempre sportivi, che stanno dando degli ottimi risultati e qualcuno piano piano comincia a strappare dei pass per le Olimpiadi Questo è positivo perché sappiamo benissimo noi speriamo che possa essere porta bandiera della nostra nazionale possa essere proprio Gibo Tamberi insomma Gianmarco Tamberi che conosciamo bene che è stato impegnato all'All Star dell'NBA la sua seconda grande passione è la pallacanestro vede anche lì, grande passione per Gianmarco per la pallacanestro però da saltatore ovviamente speriamo che possa riconfermare la medaglia di Tokyo Tra le tante notizie ce n'è una che ha riguardato questo giovane, questo 14enne che si è gettato improvvisamente dal terzo piano del liceo Savoia di Ancona si parla tanto di scuola, lei ha anche questa delega importante sono giorni concitati, poi saranno ovviamente i magistrati a fare chiarezza sul perché sul come sia accaduto tutto questo perché la scuola precisa su alcuni aspetti poi i racconti degli studenti invece dicono che questo ragazzo insomma abbia ricevuto un 2 a voce e non sul registro elettronico e questo ragazzo poi ha lasciato scritte alcune cose è da vedere se è stato un momento di sconforto non vogliamo, questo è un aspetto che riguarda la sfera umana di un ragazzo e quindi va lasciato e speriamo che possa riprendersi al più presto e possa ritornare a scuola al più presto però c'è un problema educativo cioè i nostri ragazzi talvolta sono diventati più fragili non lo so, la generazione dei nostri genitori parlavamo di suo padre, del mio o dei nostri nonni erano le generazioni che sapevano affrontare le difficoltà i nonni venivano persino dalla guerra oggigiorno invece abbiamo delle generazioni che sono molto più fragili il covid senz'altro non ha aiutato no, sicuramente il covid è stato purtroppo un periodo molto brutto per i nostri ragazzi perché credo che abbiano vissuto l'isolamento e quindi dietro l'isolamento il fatto di magari perdere la socialità il contatto umano soprattutto con i loro amici ma anche comunque con gli insegnanti piuttosto comunque che con altri soggetti questo credo che abbia influito in maniera negativa sui ragazzi tanto ci sono comunque degli studi che stanno proprio verificando gli aspetti e le conseguenze che i giovani potranno avere poi non solo adesso ma anche ovviamente in futuro perché le conseguenze noi non le possiamo vedere nell'immediato ma inevitabilmente sono delle conseguenze che poi si vedranno a lungo termine credo che dobbiamo partire da un aspetto fondamentale che è quello dell'ascolto dei nostri giovani quindi quello penso che sia l'aspetto più significativo dobbiamo ascoltarli, dobbiamo osservarli dobbiamo cercare di capire il più possibile quelli che sono i loro disagi perché a volte non è facile molto spesso loro sono chiusi dialogano di meno i social hanno creato questa patina che hanno questi giovani per cui non c'è quel dialogo diretto per cui uno capisce il problema o comunque riesce a coglierlo diventa anche più difficile per gli esperti assolutamente assolutamente infatti dobbiamo cercare di farsi secondo me che siano sempre meno connessi con la tecnologia e riacquistino invece il più possibile il dialogo il dialogo con i genitori sicuramente in premis con la scuola con anche i loro coetanei perché molto spesso magari preferiscono parlare con i loro coetanei aprirsi con loro un po' perché questo lo facevamo a volte anche noi nella nostra generazione quindi ci capitava magari di raccontare la nostra esperienza all'amica piuttosto che magari alla madre o al padre insomma quindi purtroppo oggi vivono un po' isolati e quindi si chiudono spesso nelle loro stanze e non interagiscono quindi credo che questo sia un po' il vulnus sul quale è necessario tutti lavorare verso una direzione che sia quella di farli uscire il più possibile da questo isolamento cioè i giovani, ne abbiamo parlato la settimana scorsa c'era Emanuele Piloni che è rappresentante di Chiesoli Istriani che lei conosce perché avete tenuto una seduta aperta del Consiglio regionale qualche giorno fa i giovani sono molto attenti a tematiche di stretta attualità quindi la Shoah, gli esoli istriani cioè anche a livello politico si stanno interessando vogliono essere partecipi sulle Green Deal o comunque questa tematica ambientale però poi si perdono nei meandri la politica adesso ha questo compito perché anche la scuola è in difficoltà lo abbiamo visto la scuola è in grave difficoltà la politica adesso deve assumersi una responsabilità ancora più incisiva rispetto a come era un tempo per cui c'era una grande divisione possiamo dire chi amministrava amministrava la scuola era la scuola la famiglia era la famiglia adesso si è creato un po' si è amalgamato tutto insieme ma io penso che sia importante intercettare i giovani e avvicinarli alla politica perché comunque saranno ci riuscite che è tutta una questione ultimamente non parlo di lei ovviamente ma ultimamente in politica divisioni non è semplice dove vado a finire perché c'era una volta con i grandi personaggi che attraevano lei ha parlato di Antonio Merloni la famiglia Merloni è stata una grande attrattiva per la sua realtà così come lo era Forlani ad esempio per un'altra realtà pesarese ma anche per tutte le Marche o Ciaffi e Foschi nei Maceratesi oggi avete ricordato mi piace anche ricordare perché abbiamo avuto modo di conoscerlo Fernando Foschi che è stato consigliere regionale fratello di Franco Foschi anche lui è altro grande politico della democrazia cristiana sta un po' anche a voi cioè lei è giovane ha avuto l'opportunità è vero questo è stato anche diversi consiglieri regionali sono giovani beh dobbiamo secondo me cercare di avvicinarli il più possibile come dicevo alla politica in generale perché comunque la politica significa essere al servizio e quindi credo stimolare il loro anche questo diciamo questo desiderio e questa inclinazione perché comunque saranno poi i giovani che in futuro dovranno occuparsi della cosa pubblica e quindi amministrare comunque le varie i vari enti della nostra regione ma comunque più in generale dell'Italia e credo che possa essere un grande stimolo in questo senso perché bisogna capire quelle che sono le loro inclinazioni perché poi loro stessi essendo magari i protagonisti in futuro della politica potranno mettere in campo il loro desiderata quindi credo che forse il compito della politica attuale sia quello di intercettarli il più possibile e di avvicinarli come succedeva un tempo perché un tempo la politica era molto più vieni dentro ma io la penso diversamente da te comunque c'era questa voglia di inglobare di creare gruppo e adesso magari ma sì diciamo che ecco non è tanto l'aspetto partitico ci sono più partiti adesso so che lei viene viene da un partito però onestamente adesso i veri partiti come erano concepiti in tempo come vengono concepiti manca quella scuola no? si parla parlavamo di scuola scuola politica al di là voi la fate con la Lega avete fatto diversi anche incontri per carità però la vera scuola politica è la riunione no? del partito non si fanno quelle riunioni settimanali o quasi ogni sera non si fanno più ormai però ecco è secondo me stimolarli in questo senso stimolarli verso questa direzione ma cercare di far sì che siano loro stessi che prendano a cuore determinati problemi determinate esigenze quindi devono essere loro stessi protagonisti portavoce delle loro richieste perché la politica in realtà è questa come dicevo prima cioè prendersi cura di quelli che sono i problemi che ovviamente ognuno di noi si trova ad affrontare farli propri e cercare di risolverli fondamentalmente questo è un aspetto che secondo me è la vera politica è questa oggi poche notizie di cronaca devo dire adesso un attimo ci fermiamo un secondo ci spostiamo proprio davanti al nostro computer una notizia lei in questo caso è l'omicidio Panzieri no? l'abbiamo seguito devo dire che l'ho seguito personalmente proprio il giorno in cui è accaduto la verità di Alessandrini Marco Alessandrini quello che ha ucciso ovviamente Panzieri l'ho ucciso perché era innamorato di lui anche se è la terza la terza ricostruzione che viene offerta da l'assassino di Panzieri ieri c'è stata questa riunione del tribunale in tribunale si è discusso il tutto lui non è non ha voluto testimoniare apertamente per non incrociare lo sguardo dei genitori di Panzieri ma hanno messo un telo una tenda che lo copriva in modo tale da non quindi incrociare i sguardi dei genitori anche se i genitori di Panzieri chiedono l'ergastolo questa notizia ci viene riportata da IOTVRS e un delitto d'impeto a sfondo sentimentale Alessandrini si sarebbe invaghito questa è l'ultima ricostruzione sentimentalmente dell'amico e a un suo rifiuto sarebbe scattato questo raptus omicida prima era Yahweh quindi Gesù che aveva indicato di ucciderlo insomma sono dinamiche che poi sarà proprio al giudice definire il tutto movente quindi passionale vedremo come si evolverà questa situazione e proseguiamo con notizie di cronaca una notizia che è avvenuta questa mattina schiacciata da una lastra di metallo altri infortuni sul lavoro dopo quello che è successo a Firenze con la costruzione di questo grande supermercato S Lunga continuano le morti o gli incidenti sul lavoro anche purtroppo nella nostra regione è avvenuto questa mattina in una fallegnameria di Appignano città che davvero dove si costruiscono tantissimi mobili per eccellenza dell'arretamento quindi città dell'arretamento e non solo intorno alle 10.30 per cause in corso di accertamento un operaio è rimasto schiacciato da una lastra di metallo sul posto poi sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e viste le gravi condizioni dell'uomo è stato trasportato in eleambulanza all'ospedale Torrette ci spostiamo adesso su cronache Ancona altro fatto di cronaca ubriaco da neescandescenze sono diversi questi fatti di ubriaco che è successo anche ad Ancona l'altra sera aggredisce i due agenti della polizia locale arrestato 55enne questa è la notizia che hanno invece ripreso un po' tutte le testate è accaduta un anno fa nel senso che sbarcano dalla Geobarenz sapete queste navi che erano state fatte attraccare al porto di Ancona con testimonianze dei migranti è stato individuato e arrestato uno scafista l'indagine della polizia di Stato coordinata dalla procura d'Orica è durata 10 mesi e ha permesso di individuare importanti dati informazioni elementi riconducibili a persone coinvolte nell'organizzazione dei viaggi dei trasmigranti sulla rotta Egitto Libia Italia proseguiamo e parlavo di agricoltura prima con l'assessore altro tema scottante di questi giorni agricoltori e la carica dei 100 stufi di essere sottopagati ce lo riporta Cronica Maceratesi perché si sono incontrati diversi agricoltori che non vogliono più le sigle sindacali non interessa più delle varie associazioni di categoria vogliono muoversi senza avere questo cappello come avveniva fino a qualche tempo fa ma indipendentemente per non essere etichettati e per poter ottenere qualcosa di concreto ieri sera si sono ritrovati presso l'agriturismo i valeriani di Macerata gli agricoltori del centro sud della regione e hanno dichiarato che non vogliono e non intendono fermarsi ma che sono disponibili al dialogo con le organizzazioni politiche e sindacali per trovare una soluzione in pratica loro vendono a un prezzo irrisorio i loro prodotti frutto di tanta fatica tanto lavoro che poi invece il prezzo finale è 15 volte tanto quindi non ritengono giusto come viene riconosciuto il loro lavoro rispetto a poi come viene pagato il prodotto al supermercato o nei vari negozi della grande distribuzione ma questo è uno dei tanti problemi che affliggono il settore ne abbiamo parlato del settimane fa quando abbiamo intervistato un agronomo c'è il limite del 4% di incolto del terreno poi c'è l'uso dei fitofarmaci che da noi vengono utilizzati in maniera davvero molto ridotta adesso ha fatto la Fonderlegen una marcia indietro abbastanza importante in questa direzione però le richieste sono molte e di più vedremo se riusciranno ad essere ascoltati i nostri agricoltori anche perché ci sono le elezioni europee alle porte quindi probabilmente è il momento giusto per affrontare un tema che sarà senz'altro un tema da campagna elettorale io assessore prima di fare la seconda parte direi di lanciare un attimo la pubblicità una breve pausa pubblicitaria poi ritorniamo perché dobbiamo parlare di Pesero capitale della cultura di pari opportunità perché anche lì tanti impegno nelle marche purtroppo in questi giorni abbiamo parlato dei processi che hanno riguardato alcuni femminicidi che sono avvenuti anche nella nostra regione ma grande impegno anche per combattere questo fenomeno qui nella nostra regione a fra poco di pari opportunità di pari opportunità